Il FAI Giovani, delegazione di Cosenza, ha scelto la dimora storica di Villa Rendano, quale location per il tradizionale scambio di aguri per il nuovo anno. Il FAI, acronimo di Fondo Ambiente Italiano, ha tra i suoi obiettivi principali la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, anche attraverso l'organizzazione di occasioni conviviali, in particolari luoghi d'arte. La scelta di Villa Rendano non è stata casuale, visto che da poco è stato inaugurato il Museo Multimediale Consensia Itinera. Noi stasera abbiamo voluto puntare i riflettori sulla meravigliosa Villa Rendano e di questo ringraziamo la fondazione con cui siamo in sintonia nella missione. Peraltro è il nuovissimo e bellissimo Museo Consensia Itinera, che questa è la cosa che ci ha entusiasmato e in realtà si avvale di nuove tecnologie multimediali per raccontare la storia della città, quindi questa è la cosa che ci ha incuriosito e su cui noi vogliamo battere e accendere i riflettori. Ai partecipanti è stato chiesto un contributo libero, che sarà devoluto per il restauro delle opere d'arte danneggiate dal sisma che ha colpito il centro Italia nell'agosto del 2016. Stasera nello specifico abbiamo pensato ad un oratorio che è in fase di restauro, l'oratorio della Madonna del Sole, che si trova a Cabo d'Acqua, una frazione di Arquata del Tronto, che purtroppo è stato fortemente danneggiato dal sisma del 2016. Quindi c'è un restauro in corso, è un bene a cui gli abitanti, i cittadini sono estremamente legati e quindi il FAI dà un piccolo contributo per ripristinarlo e per ridare la luce all'oratorio della Madonna del Sole.